Ed ora è il momento di annunciare il quarto incontro E' già salito sul ring l'arbitro il signor Raffaele Claudio Aveni di Roma Ed ora chiamiamo sul ring All'angolo blu da Tivoli Roberto Ranieri Roberto Ranieri Il suo avversario Da Gensano di Roma Per il Pro Combat Team Castelli Romani Top Team Alessandro Disney Alessandro Pizzan Muai Pai Tre round da due minuti Arbitra il signor Raffaele Claudio Aveni di Roma All'angolo blu con un record di 12 incontri disputati 11 vittorie ed una sconfitta Accompagnato all'angolo dal maestro Paolo Adinari Per il blu team di Tivoli Da Tivoli Roberto Ranieri Il suo avversario All'anno rosso Con un record di 15 incontri disputati 13 vittorie Una sconfitta ed un pari per lui E' accompagnato all'angolo dal maestro Alessandro Topa Per il Pro Combat Team Castelli Romani Top Team Da Gensano di Roma Alessandro Disney Ritorniamo Muai Thai Tre round da tre minuti E' accompagnato all'angolo dal maestro Di Musica ... ... ... ... ... ... ... Sì, 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 sì. Sì, 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 sì. È la prima ripresa. Sì, sì, sì. Sì, 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 sì. Sì, sì, sì. Sì, sì. Sì, sì. Sì. Sì, sì. Sì, sì. Sì. Sì, sì. Sì, sì. Sì, sì. Sì, sì. Sì. Sì, sì. Sì, 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 sì. Sì, sì. Sì. Sì, sì. Sì. Sì, sì. Sì. Sì, sì. Sì, sì. Sì, sì. 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 Fuori. Sì. 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 fuori i secondi è la seconda ripresa a i i i i Grazie a tutti. 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 Fuori i secondi. E' la terza ed ultima ripresa. Grazie a tutti. 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 Ed è la fine dell'incontro. In attesa del verdetto, ancora un applauso per Roberto Ranieri e Alessandro Bisnan. Grazie a tutti. Siamo pronti per annunciare il verdetto. Match party. Ancora un applauso ai due atleti, Roberto Ranieri ed Alessandro Bisnan. Un applauso ai due atleti.